Buon salve cari pixelini e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura dove andiamo a spacchettare il calendario dell'avvento di Lego Harry Potter C'è un giveaway ragazzi C'è un giveaway Se andate a commentare il video numero 1 potete vincere tutto questo calendario Compreso di una sorpresina fatta da me Ma ragazzi 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 non perdiamo altro tempo Trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione e in descrizione al video numero 1 Andiamo a cercare il pezzetto di oggi Allora dove sei dove sei dove sei dove sei Il numero 12 è qui Andiamo a usare come al solito la magia con la sinistra che non sono in grado per andare a prendere e aprire oggi Uuuuh È un pezzetto goloso oggi Oggi si fa colazione con dei cornetto Un cornetto dei biscottini una torta alla mele Non lo so con cose Con cose ragazzi mamma mamma Usiamo l'altra magia per andare a aprire anche questo pacchettino L'ho aperto malissimo la mia magia non è potente oggi in me Apriti 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 Kerata oggi non è molto da comporre Questo qui non si deve più che altro comporre Ma soltanto mettere in mostra Se si aprisse cortesemente serve una cosa carina Ok abbiamo da comporre la colazione con la briochina La briochina ho detto È molto complicato inserire la briochina con i dolcetti qui Ok eccoci qua mamma 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 ho la tortina Eccetera Ragazzi Guardate carini Abbiamo ovviamente qua L'immaginetta con lo spoiler lì dietro di un altro affarino Ed eccolo qua Ragazzi guardate che carini La briochina con due dolcini dentro Non si vedono bene Un altro dolcino La tortina E i fantastici bicchierini Che poi andranno a inserirsi Se non sbaglio forse è qui dentro No no qui c'è la mia grazia Da qualche parte ci sono i tavolini Se andranno a metterli sopra Insieme al pollo Eccetera Mamma mamma mao Vi ricordo il giveaway Andate a commentare il video numero 1 Fatemi sapere qua sotto nei commenti Se intendete partecipare o meno Ovviamente se commentate tutti i video È molto molto meglio Insomma lo so io lo so Per oggi è tutto ci vediamo nella prossima puntata Cioè domani il 13 dicembre Per andare a aprire questa casellina Oh stavolta so già dov'è Quindi domani il video sarà più facile Per oggi è tutto che altro dire Mi raccomando il giveaway Fate come Fate un bel letale Che fra poco siamo sempre più vicini Al 25 dicembre Che non so dove sia qui Il 24 Dov'è il 24 Oh eccolo qui il 24 Per oggi è tutto Che altro dire Fatto Il Mi sgatto Mamma mao Se anche tu come me Non puoi più vedere Di poveri ipogrifi incatenati Se anche tu come me Non riesci più a sopportare Il maltrattamento Degli elfi domestici Allora Iscriviti al canale Del pixel matto Potrai trovare ricette Gameplay Notizie poteriane E molto altro ancora Cosa aspetti Iscriviti E attiva la campanella Per non perdere nessun video Il fantastico mondo di Harry Potter Ti aspetta